La Fondazione Monte dei Paschi di Siena è alla deriva e senza presidente. Ieri sera infatti nuova fumata nera per la nomina del presidente della Fondazione dei Componenti della Deputazione Amministratrice. È lo specchio del caos che c'è fuori, ha commentato uscendo Sergio Betti, uno dei consiglieri dell'ente che deve sostituire Antonella Manzi alla guida della stessa fondazione. Secondo quanto hanno spiegato i consiglieri uscenti, nel corso della riunione di ieri sono state poste in votazione due candidature, quella di Bettina Campedelli e quella di Marcello Claric, due personalità rilevanti bruciate in un colpo solo. Entrambi avrebbero ottenuto cinque voti, due sarebbero state le schede bianche, un consigliere collegato dall'estero non ha votato, mentre Campedelli si è astenuta. Intanto Antonella Manzi ha firmato la lettera di dimissioni con data primo agosto. Toccherà ora al Ministero dell'Economia decidere come l'ente potrà arrivare al 22 agosto, giorno nel quale è stata convocata la Deputazione Generale per la nomina del suo successore. Si tratta di dimissioni irrevocabili. La stessa Manzi aveva chiesto al Ministero una proroga del suo incarico fino al 31 luglio, forse convinta che la Deputazione Generale per quella data trovasse un accordo sul nome del suo sostituto. Verificato ieri sera che questo non era possibile, allora la decisione di lasciare. Una delle fondazioni bancarie più importanti d'Italia e con lei la città di Siena tornano così a brancolare nel buio.